Musica Ben trovati dalla redazione sportiva di Sesta Reite, il Catania come sempre in primo piano con tutte le ultime sulla gara casalinga di domani contro lo Spezia. E' arrivata la lista dei convocati fuori Martigno, Belmonte e Copola, c'è invece Calaio, il tecnico Dario Marcolin dovrà sciogliere gli ultimi dubbi legati al modulo, conosceremo meglio lo Spezia, avversario di domani e i precedenti al Massimino tra le due compagini, pensate lo Spezia tornerà a Catania dopo oltre 60 anni. Ci sposteremo quindi in Casa Palermo dove si lavora in vista della gara del Manuzzi contro il Cesena, quindi spazio come ogni venerdì all'incontro, alle conferenze tenute da Catania al vertice, al borghetto Europa. Ancora una volta al centro i tagli e la crisi e l'indifferenza delle istituzioni regionali. Infine parleremo di basket con la sconfitta della Lasur per 63 a 53 nell'attesissimo ma anche discusso derby contro la Rainbow. Questo e altro tra poco, dopo la pubblicità. Dunque l'avete sentito dal nostro sommario, è arrivata la lista dei convocati in vista della sfida casalinga di domani contro lo Spezia. Restano fuori Belmonte, Coppola e Martigno c'è invece Calaioma. Il tecnico Dario Marcolin dovrà sciogliere gli ultimi nodi legati al modulo indeciso, diciamo così, tra il ritorno al 4-3-1-2 o la riconferma del 3-4-1-2. Sentiamo Antonio Costa. Il Catania ha un nuovo impegno difficilissimo da affrontare, ma in realtà si tratta solo di una partita da vincere a tutti i costi, per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla zona salvezza. Sul cammino dei rossazzurri c'è lo Spezia dell'ex di lusso Andrea Catellani, che già all'annata fece parecchio male agli etnei. I Liguri verranno al massimino con lo stesso intento proprio per cercare di restare agganciati alla zona play-off e quindi le insidie per il Catania saranno numerose, a partire da quelle presentate dall'infermeria, nuovamente affollate per le ripetute defezioni di Belmonte, Martigni e Coppola, ancora fuori dai convocati. Domani non ci sarà nemmeno Castro, fermato per un turno dal giudice sportivo, mentre Calaiosta Meier fa parte del gruppo dei giocatori chiamati da Marcolin. A questo punto il tecnico rossazzurro dovrà capire quali sono le reali condizioni del suo numero 9, che se non dovesse farcela scendere in campo dal primo minuto lascerebbe spazio a quei rossetti, che stava per regalare il primo successo esterno stagionale al Catania. Vi è poi la tentazione di schierare la difesa 3 piuttosto che quella 4 con Ceccarelli, Schiavi e Capone in difesa. Del Prete mazzotta sulle fasce e Rinaudo e Shoudon in mezzo. Se Del Prete poi partisse dalla panchina, allora Shoudon e Neb a destra in mezzo potrebbero essere riproposto oggi ad accanto a Rinaudo. Per Marcolin quindi sono ore di riflessione, ma quel che è certo è che domani il Catania non potrà permettersi di scendere in campo per un risultato diverso dalla vittoria. E adesso andiamo a conoscere meglio lo Spezia, avversario di domani, re e duce dalla vittoria casalinga per 5-2 contro la Provercelli. E settimo in classifica in piena corsa, play-off. Sentiamo Sergio Barbagallo. Le Aguile dello Spezia tornano in Sicilia dopo oltre 60 anni di assenza, determinati a fare risultato. I Liguri di Biellica occupano la settima posizione in classifica con 42 punti insieme agli abruzzesi del Pescara. I bianconeri nelle 29 partite giocate hanno totalizzato 11 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. I gol fatti sono 37-30, invece quelli subiti non certamente brillante il rendimento in trasferta degli ospiti. Di fatti nelle 15 gare lontane dall'Alberto Picco le vittorie sono state 4, così come i pareggi. 7, invece, le sconfitte rimediate. Nelle ultime 5 giornate di fatti in trasferta ha perso a Chiavari contro Lentella per 2-0 e con gli Umbri del Perugia, questa volta per 2-1. Importante il pareggio conquistato contro la capolista Carpi, importante come la vittoria dell'ultima giornata contro la Provercelli, in vantaggio per 2-0 e poi asfaltata 5-2. Uno spezia superoffensivo con tre lì davanti a sostenere l'unica punta. La filosofia dell'allenatore biellica è o la va o la spacca. Non a caso sono sempre ricche di gol ed emozioni le partite del suo equip sino all'ultimo minuto. Tra i giocatori da tenere d'occhio l'ex di turno Catellani e diciamolo pure con il dente abbelenato nei confronti della società etnea ed il mediano Bacic, giocatore molto offensivo e di qualità. Attenzione ai due terzini di grande spinta che lascia nel più delle volte scoperta la retroguardia bianconera fondamentale per il fatidico contropiede. Un'attenzione particolare anche a Nenè che in cadetteria può fare sempre la differenza in qualsiasi momento. E con Daniele Di Frangio andiamo a scoprire invece i precedenti tra le due compagini in Sicilia. Sono davvero pochi. Pensate lo spezia torna a Catania dopo oltre 60 anni. Vediamo. 64 anni. Tanta è la distanza dall'ultima gara tra Catania e Spezia in terra sicula. Era la stagione 1950-51. I rossazzurri battevano i Liguri con una doppietta di randonne. Squadre che affrontavano il campionato cadetto così come adesso e che qualche mese prima, sempre al Ciba, li avevano impattato sullo 0-0. Nel computo vanno anche inserite due sfide negli anni 30 tra l'associazione fascista Calcio Catania e lo Spezia. Una vittoria per parte, 2-1 per gli Etnei e 3-0 per i Liguri nel febbraio del 37. Il resto è storia recente e non più in bianco e nero. Ovvero la gara dell'andata in Liguria tra bianconeri e rossazzurri era il 19 ottobre e i rimaneggiati Etnei affrontavano la squadra di Bielizza. San Nino doveva fare a meno di tantissimi elementi ai box per infortunio. Con difesa e centrocampo praticamente inventati, gli Etnei subivano i padroni di casa che al 23esimo passavano in vantaggio col croato Brezovets. Ma il protagonista del match doveva ancora scatenarsi, quell'Andrea Catellani mosso da grande sede di rivincita contro la sua ex squadra. Un calcio di rigore procurato e trasformato ed il gol che chiudeva i conti a 5 minuti dalla fine. Nel mezzo anche un calcio di rigore parato da Cicizola a Rosina e l'espulsione di Ghiomber. Un Catania molto diverso da quello che vedremo domani al Massimino con un elemento che nel frattempo ha cambiato casacca. Da perno dello Spezia al leader della difesa rossazzurra, Luca Ceccarelli. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Restate con noi dopo la pausa ancora calcio. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta del Manuzzi contro il Cesena. Il tecnico rosa nero Beppe Iachini dovrà fare a meno di Lazare, Morganella e Gonzales. Sentiamo Daniele Di Frangia. A bocca di Falco il Palermo continua a preparare il match di domenica al Manuzzi contro il Cesena. Rosa nero che vogliono tornare alla vittoria dopo aver conquistato solo un punto nelle ultime due partite. Ma di fronte ci sarà un Cesena che sta dando fastidio a tutti. I romagnoli arrivano da una vittoria fondamentale in chiave salvezza contro l'Udinese. E prima avevano messo in difficoltà due big come Juventus e Milan, riuscendo a raccogliere però solo un punto. Squadra che dunque ha grande necessità di punti per alimentare la lotta a retrocessione. I bianconeri di Di Carlo però hanno a che fare con i dubbi relativi alla presenza di Renzetti e Rodriguez. Quest'ultimo si è allenato a parte mentre il terzino è rimasto a riposo. In casa rosa nero quest'oggi seduta mattutina. La buona notizia per Iachini e il ritorno in gruppo per Bolzoni e Rigoni. Lavoro di riatletizzazione per la ZAR mentre Gonzales si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Il tecnico marchigiano dovrà invece fare a meno per un po' di Morganella, il cui intervento è andato bene, ma che lo vedrà fermo ai box per diversi mesi. Con il rientrante Maresca Iachini potrebbe optare per un 4-3-2-1. Con quei zone basket dietro Dibala ed un da prelà sulla linea dei difensori. Un modulo che piace al presidente Zamparini. Torna il consueto appuntamento del venerdì al Borghetto Europa con Catania al vertice. C'era per noi questa mattina Sergio Barbagallo al centro dell'incontro. Come sempre la crisi economica e la totale indifferenza delle istituzioni della regione. Si è svolto il consueto appuntamento del venerdì al Borghetto Europa del consorzio Catania al vertice. Ancora una volta al centro della conferenza tenuta da Nello Russo la sintesi degli obiettivi che il consorzio si pone per salvare lo sport siciliano nonostante la non curanza della politica regionale. Io partirei da una frase del manifesto I Vespri Siciliani. Non abbiamo abbandonato la voglia di volare in alto. Però qualcuno evidentemente vi ha abbandonato. Ci hanno abbandonato già da qualche anno. Ora solo la differenza è che ora stiamo reagendo. Prima stavamo tranquilli e fermi e subivamo. Ora ci siamo incalzati perché in Vita Conte siamo sempre siciliani. tira, 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 sangue nelle vene e ci scorre. Quindi abbiamo deciso di reagire. I Vespri Siciliani sono la reazione a questo piattume di politica, di non politica, di assenza totale della politica della regione siciliana al campo dello sport. È un'assenza assordante che ci preoccupa, però stiamo reagendo. E state tranquilli che questa battaglia noi la vinceremo. Che non si illudino che noi scenderemo in piazza. Veramente saranno Vespri. Si giustificano dicendo che noi siamo rappresentati da Alconi. Io dico sì, siamo rappresentati da Alconi, ma fino a un certo punto vogliamo leggere le carte, vogliamo sederci al tavolo delle discussioni. Cioè Catania al Vertice nasce come un'istituzione sindacale vera e propria. Noi scendiamo in campo, vogliamo capire. Non siamo soddisfatti di quello che ci vengono a riferire agli altri. Parliamo di basket adesso con la sconfitta per 63 a 53 delle ragazze della Lazur Catania nell'atteso, ma anche molto discusso, derby contro la Rainbow. C'era per noi Umberto Pioletti. Derby avvincente al Palacalermo di Catania, dove la Rainbow aveva battuto per 63 a 53 la Lazur Catania. La squadra del Presidente Federico Cicero ha comunque tenuto testa alla prima della classe, riuscendo a contrastarla fino alla fine. La squadra di Gianni Catanzaro ha chiuso in avanti il primo parziale per 24 a 17. Nel secondo tempo si è portata sul 38 a 37. Nel terzo parziale però la Rainbow è riuscita ad effettuare il sorpasso vincente per 49 a 44. Nell'ultimo tempino la squadra di casa non ha poi mollato ed è riuscita a raggiungere 10 punti di vantaggio. In classifica cambia poco perché la Lazur Catania rimane al secondo posto, mentre la Rainbow è prima. Entrambe sono ormai lanciate verso i play-off per la promozione. Gianni Catanzaro, il derby va alla Rainbow, però la Lazur ha tenuto testa alla prima in classifica. Sì, era quello di cui avevamo bisogno dopo le prove, le partite di tutte queste giornate fino ad oggi. Avevamo bisogno di dare una svolta al campionato. Ci volevamo riuscire vincendo, questo non è stato possibile, però sicuramente la squadra ha risposto molto meglio che nelle altre partite. Purtroppo siamo ancora dietro loro, abbiamo tanto da fare prima di poterle superare, però la strada adesso sembra essere quella giusta. Ci sono strette in difesa, lasciando poco spazio alle nostre, abbiamo messo meno tiri di quello che avevamo chiesto in panchina durante i minuti di sospensione. Dovevamo un po' più giocare su linee esterne per far aprire la loro difesa con qualche tiro da fuori delle nostre tiratrici. Purtroppo non è andata, ma poi abbiamo avuto qualche problemino di falli. Il primo quarto, i falli di Cutugno, poi i quattro falli di Eric, un po' ci hanno bloccato lì. La seconda volta la nostra cittadina si è giocata al Palacalermo, non nel vostro campo. Quindi è un'anomalia. Sì, questa è un'anomalia che credo che nel mondo dello sport difficilmente, anzi no, credo che forse sia la prima volta che si sia verificata. Almeno abbiamo questo record. È strano, veramente abbiamo perso sul campo. Su questo non lo discuto e non lo discuteremo mai nessuno di noi. Però non aver avuto la possibilità di giocarci la seconda partita nel nostro campo credo che sia un tantino così, un tantino strano. È successo che sostanzialmente c'è stata una cattiva interpretazione della prima partita giocata qua. Avevamo chiesto semplicemente di giocare qui la prima, pur essendo in casa nostra, a causa di un'indisposizione del nostro palazzetto. Sembrava che l'accordo era fatto, noi qui prima e loro da noi adesso. Poi per qualche motivo questo non è stato possibile. Non sta a me dire il perché c'è la società che fa questo tipo di ragionamenti. Però lasciatemi dire che non giocare mai nel mio campo di casa una partita importante come il derby sicuramente è un'anomalia, diciamo così. Con questo per adesso è tutto. Grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.